Uno dei nostri obiettivi è quello di essere il brand di riferimento nel mondo per la protezione solare e il vivere all'aria aperta. Per questo investiamo molto in comunicazione. Siamo presenti in tutti i principali media, come televisione, siti web di riferimento, radio e social network, raccontando i nostri valori e i nostri prodotti. I rivenditori GBU Satellier traggono beneficio dalla popolarità del nostro brand, diventando riferimento nel territorio di competenza e risultando attraenti e riconoscibili per potenziali nuovi clienti.